Inizio il primo round Ma dai no? Vai Gianlu dai! vai Gianlu fatti con le braccia vai Gianlu fatti con le braccia su con le braccia bravo bravo vai Gianlu su la guardia con le braccia con le braccia bravo Gianlu vai 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 sulla guardia sulla guardia con le braccia con le braccia 10 10 10 10 10 secondi su le braccia su le braccia cazzo cazzo ce li hai le braccia Gianlu cazzo ce li hai le braccia 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 ci ha fatto male abbiamo vinto abbiamo vinto ci ha fatto male ma si ma si ma si ma si ma si batte arrestatelo Mirko è finito Mirko è finito albino prende un po' di accedere arrestatelo così che vogliamo beh che t'amare Mirko è finito bravo bravo first one round my friend